Salve, oggi vi parlo di questo coltello della Dahlstrom serie Omega. Allora, esteticamente è un coltello molto carino, molto bello e purtroppo la sua bellezza tende ad ingannare le persone, come è successo con me. Allora, partiamo innanzitutto dalla lama, la forma della lama. Allora, la lama ha una lunghezza complessiva di 22 cm, per un'altezza di 5,5 cm o 55 mm. Come potete vedere, la punta è, diciamo, una punta mozza, quindi questo qui è un modello Kiritsuke. Il manico è abbastanza carino con questo pin in mosaico centrale, ha una lunghezza complessiva di 13 cm. Quindi, per una lunghezza complessiva di, scusate, per una lunghezza complessiva di 35 cm. Allora, adesso devo essere proprio sincero con questo coltello, è molto molto sincero. È bello a livello estetico, ma a livello pratico, secondo me, è un coltello totalmente sbagliato. Quindi ha poco di positivo e ha tanto di negativo. Adesso parliamo subito degli aspetti positivi. L'aspetto positivo, beh, è bello, esteticamente è molto carino. Taglia, perché per tagliare taglia. L'acciaio si affila abbastanza facilmente. È un acciaio inox, quindi per qualcuno è un punto a favore essendo un acciaio inox. Però, adesso passiamo agli aspetti negativi. Il peso non è un coltello, non è troppo pesante o non è neanche troppo leggero. Siamo all'incirca sui 220-230 grammi. Purtroppo il bilanciamento è tutto sul manico, quindi questo coltello ha un manico eccessivamente pesante. Cioè è davvero molto, 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 molto pesante. Diciamo che per me è un difetto, però alcune persone piacciono avere dei coltelli con un manico più pesante rispetto alla lama. Come potete vedere, il punto di equilibrio di questo coltello è qui. Quindi è qui il punto di equilibrio. Come detto prima, il peso eccessivo del manico, secondo me, è un punto a sfavore. Perché? Se utilizzato in una cucina professionale, e quindi l'operatore, chi lo utilizza, il cuoco, l'aiuto cuoco, deve tagliare quantità eccessive di ingredienti, il coltello tende ad andare verso il manico, e non ci aiuta durante la fase di taglio, quindi per forza chi utilizzerà questo coltello deve applicare molta più forza e più pressione. Se lo utilizziamo in casa e tagliamo pochi ingredienti, non è un problema. Però se siamo in un ambiente professionale, usare molta più forza durante la tecnica di taglio comporta una... ad avere l'operatore che usa questo coltello si stanca prima. E io, questo io, essendo un cuoco, per me è un punto a sfavore. Un altro grandissimo punto a sfavore è questo effetto che ha messo sulla lama. Essendo un effetto in rilievo, perché non è... non è... non so come spiegare. Comunque è in rilievo. Cioè si sentono gli scalini dei giochi, di tutte queste curve, si sentono. Molto bello a livello estetico, eh? Ma non a livello pratico. Perché se andiamo a tagliare ingredienti duri, croccanti, carote, zucche, anche la cipolla, questi rilievi purtroppo tendono a segnare gli ingredienti. E' un problema se cuciniamo a casa? No, non è un problema. Però è per un cuoco, questo sì. Questi segni che sto coltello lascia sugli ingredienti è un problema. Ed è un problema anche grave, eh? Io non so quando hanno pensato sto coltello, cosa stavano pensando, o se è stato creato soltanto per un uso puramente estetico da tenere lì in vetrina. Il costo, se non sbaglio, lo pagai sulle 160€. Quindi chiaramente vi dico, se avete soldi da buttare e vi piace il modello da tenere in vetrina, ok. Se vi piace davvero la Dahlstrom, per quei soldi potete comprare altri modelli. Sempre della stessa Dahlstrom, che sono qualitativamente migliori, anche con acciai migliori e molto più performanti rispetto a questo. Per tagliare taglia, taglia anche abbastanza bene. La lama non è per niente spessa. Siamo più o meno, approssimativamente, sui 2 mm esatti di lama. Quindi per l'altezza 5,5 cm e 2 mm di spessore, è un bello spessore, quindi la lama è abbastanza sottile e ha una buona capacità di penetrazione negli alimenti. Però, come ho detto prima, il fatto che il manico è molto eccessivamente pesante rispetto alla lama, comporta una maggiore forza durante il taglio. L'acciaio è un acciaio inox. Qui loro l'hanno chiamato BD1N-VX, American Hypersteel. Io ho cercato di capire che tipo di acciaio fosse studi B1NX. In giro ho letto che è un acciaio simile al VG10, però il VG10 è prodotto in Giappone. Invece questo acciaio è prodotto in Cina. Non vuol dire niente, quindi non vuol dire che è prodotto in Cina che è un acciaio scadente. Non è un acciaio scadente, è un acciaio che si affila bene, abbastanza facilmente, però purtroppo non ha una lunghissima tenuta del filo. E niente ragazzi, ripeto, se siete interessati, se vi piace l'azienda Dallstrong e volete un coltello più performante, cercate altri modelli. Non fissatevi su questo. Se poi vi piace, perché come è successo a me, vi piaceva a livello estetico e pensate che possa essere il top dei coltelli, compratelo, ma sappiate che qualcuno può restare deluso. E niente, dopo questa io vi saluto. Spero che il video è stato interessante per qualcuno e soprattutto non spendere soldi a bugia per un coltello che alla fine è poco utilizzabile. Io ho fatto un altro video dove facevo vedere la mia collezione. Se siete interessati andatelo a cercare e se volete la recensione di qualche altro coltello potete scriverlo nei commenti e io sarò molto felice di recensire. Grazie e vi ringrazio e vi saluto e al prossimo video. Ciao!